Siamo ora allo stand Pioneer Una sblida Maserati è spot all'ingresso dello stand Entriamo e scopriamo le novità Pioneer ha portato praticamente l'intera gamma Dai subwoofer da 300 watt nominali Agli speaker da portiera Qui troviamo invece la soluzione top di gamma per quanto riguarda il singolo DIN Il P9400 Compattibilità chiaramente con MP3, AAC e Windows Media Audio In questo caso perdiamo il lettore cilindro, quindi è solo un lettore di file digitali E' presente infatti una doppia porta USB Qui troviamo invece le soluzioni a doppio DIN Per una completa multimedialità in auto Qui abbiamo il P8400, top di gamma Quindi doppio DIN con display da 7 pollici Bluetooth integrato Compattibilità video totale, quindi DVX, Windows Media Video Potrebbe essere anche compatibile con gli MKV, ma dobbiamo verificarlo L'interfaccia è slide Non nei sottomenù Questo è il meccanismo per l'inserimento del CD o DVD Chiaramente è possibile regolare l'inclinazione del display Per evitare riflessi E cosa fondamentale per un sistema doppio DIN Abbiamo il frontalino e straight Ciao, ciao 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 Ciao